Musica Lega Pro e il Gubbio pronto per la sfida playoff di sabato con la San Benedettese Magi Penz al 3-4-1-2 con un ballottaggio per reparto. Perugia ha tanti dubbi per Bucchi in vista dell'Atina. Basket Sicoma Valdiceppo asfalta Esernia nella decisiva gara 3 play-out ed ottiene la permanenza in binazionale ai nostri microfoni. L'allenatore Paolo Pierotti, Volley Sir Perugia, avanti con Bernardi. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva di TRG. Ultimi accorgimenti per il Gubbio che sabato alle 15.30 ospiterà la San Benedettese per il primo turno playoff di Lega Pro. Si gioca a gara unica con i rosso-blu che hanno due risultati su tre a favore in caso di parità. Magi, che non può contare sull'appiedato Valagusta, sembra orientato a riproporre il 3-4-1-2 come modulo iniziale con diversi dubbi di formazione. Davanti a Volpe la difesa sarà formata da Marini, Rinaldi ed uno tra Piccini e Burzigotti con il primo favorito. A centro campo sulla destra gira Calombo, a sinistra Zanchi, al centro romano assieme a Giacomo Arrocroce con l'ex Melfi in leggero vantaggio. Casiraghi confermato sulla trequarte a sostegno di Ferretti e di uno tra Candellone o Ferri Marini con l'attaccante Scuola Torino favorito viste le condizioni non ottimali dell'ex Perugia e Maceratese. L'alternativa è il 4-3-1-2, modulo che escluderebbe dall'undici iniziale Calombo in favore di una mezzala e che può far tornare in auge l'inserimento di Conti. Domattina rifinitura a seguire conferenza stampa di Mr. Magi. In Serie B si prepara anche il Perugia che sabato alle 15 affronterà il già retrocesso Latina per continuare ad inseguire un posto nei play-off. Senza del prete Belmonte di Carmine, Bucchi sembra orientato a tornare alla difesa 3 con Volta, Mancini e Dossena davanti a Brignoli. Centrocampo con Mustacchio a destra, Brighi a campore al centro, di Chiara a sinistra con Dezzi e Guberti sulla trequarte a sostegno dell'unica punta forte. Monaco è però recuperato, può essere un'alternativa in difesa così come Riccia a centrocampo, mentre Terrani e Nicastro contendono una maglia a Guberti negli ultimi 30 metri di campo. Designato anche l'arbitro di Latina Perugia, si tratta di Luigi Nasca della sezione di Bari. Passiamo tra i direttanti tornando a parlare di Foligno perché il nuovo progetto calcistico Folignate dovrebbe arrivare ad uno snodo cruciale nel giro di una settimana. Prevista infatti una riunione di quello che sarà il nuovo Consiglio d'amministrazione del Falco con il coordinatore Giampiero Fusaro a fungere da linea guida delle varie parti. Uno dei primi aspetti da affrontare sarà la presa in esame del nuovo statuto societario seguito dalla Costituzione del Capitale Sociale a cui seguiranno le nomine a partire dal Presidente che comporranno l'organigramma del nuovo Foligno Calcio che dal prossimo 20 giugno prenderà il posto della nuova Fulginium e ripartirà dal campionato di promozione. Passiamo al volley perché salvo cataclismi dovrebbe proseguire il matrimonio sportivo tra la Sir Safeti Conad Perugia e l'allenatore Lorenzo Bernardi. Alcune dichiarazioni del tecnico dopo l'eliminazione dai playoff Scudetto avevano raffreddato i rapporti con il Presidente Sirci che alla fine ha deciso comunque di affidare la squadra a Bernardi anche nella prossima stagione. Peraltro pur di rimanere sulla panchina bianconera Bernardi ha rinunciato ad un anno di contratto dopo che lo aveva rinnovato appena qualche settimana fa. Il nuovo accordo scadrà alla fine della prossima stagione, l'ufficialità arriverà nella giornata di domani, poi si penserà alla campagna acquisti. Primi nomi della lista il centrale di Ravenna Fabio Ricci e il libero di Molfetta Daniele Depandis. Chiudiamo con il basket perché Sicoma Valdiceppo schianta per 69 a 50 i Sernia nella decisiva gara 3 playoff raggiungendo l'obiettivo salvezza nel campionato di B nazionale. Allora sentiamo su questo bel momento e su questa bella partita il coach Pierotti con il quale chiudiamo il nostro TG Sport. Grazie per averci seguito, a voi una buona serata. Missione compiuta per Sicoma Valdiceppo che ha raggiunto la salvezza, quello che era l'obiettivo stagionale nel girone D di B nazionale maschile di basket. Siamo con l'allenatore Paolo Pierotti che è venuto proprio qui a raccontare quella che poi possiamo dirlo era il vero obiettivo e a suo modo un'impresa per una squadra neopromossa che gioca con praticamente solo giocatori venuti dal settore giovanile a parte un paio di eccezioni e che nei playout con i Sernia ha si sofferto perdendo gara 1 ma poi ha vinto gara 2 in Terramolisana e forse lì è stato il punto di snodo della serie asfaltando poi la formazione di Sernia in gara 3. Com'è stata questa serie e com'è stato un po' tutto il campionato Paolo? Sì, io innanzitutto volevo esprimere la massima soddisfazione per il risultato raggiunto perché a inizio anno sapevamo che avremmo dovuto lottare e quindi eravamo già pronti per questa cosa. A dire la verità prima abbiamo visto il giro di andata in cui avevamo raccolto veramente pochi punti prima dovevamo evitare l'ultimo posto che significava retrocessione diretta. Fatto questo nel giro di ritorno abbiamo preso fiducia, abbiamo vinto anche quattro partite di seguito e abbiamo fatto molti più punti nel giro di andata e quindi siamo trovati addirittura a giocarci il piazzamento per i play-out visto che era impossibile evitarli anche grazie ai risultati delle altre squadre che veramente erano molto competitive. Noi con la vittoria su Giulianova, importantissima, ma anche la vittoria a Lecce, soprattutto la vittoria con la seconda in classifica che è Bisceglie siamo riusciti ad arrivare davanti ad Isernia e in quel momento avevamo la bella in casa. Questo è stato il vero successo perché poi di quello di cui abbiamo avuto bisogno è proprio questo. Gara 1 giocata senza intensità, Isernia ci ha sorpreso perché loro hanno fatto la loro partita perfetta. Noi pensavamo in casa di solito che abbiamo molta grinta, invece non abbiamo trovato ritmo, non abbiamo trovato i soliti ritmi di gioco e quindi siamo andati in difficoltà e abbiamo perso, che significa giocare la domenica e poi il giovedì dover andare a Isernia per giocarsi di tutto per tutto. Abbiamo cambiato completamente strategia, siamo divenuti ritornati, adesso è la squadra che corre, è una squadra molto aggressiva in difesa, abbiamo cambiato scelte nella difesa sul pick and roll e comunque in generale su tutte le collaborazioni di loro eravamo molto molto aggressivi e questa cosa ci ha premiato con qualche sussulto perché pur essendo stati avanti tutta la partita eravamo un minuto alla fine e siamo tornati in parità. Lì siamo stati bravi a chiudere con un assist di Filippo Meccoli per Pansieri e poi il capitano Casuscelli ha subito un fallo e ha messo i due canesti dalla lunetta e quindi abbiamo vinto di quattro. La partita in casa non poteva andare altrimenti perché ormai la via l'avevamo vista e con una grande cornice di pubblico siamo riusciti subito a metterla nei nostri binari e pian piano diciamo che se ne si è spenta e noi abbiamo potuto festeggiare. Festeggiare ancora presto magari per parlarne però si guarda penso già al futuro no perché chiaramente credo ci sia grande soddisfazione per questo anno ma anche per continuare magari a restare su questi livelli e perché no alzare un pochino di più anche la sticella visto che tutti i giocatori hanno un anno di questo campionato nazionale ricordiamolo fulle spalle e magari c'è anche il pensiero di Paolo Pierotti di continuare questo percorso. Sì vedremo ancora non si è parlato di nulla però speriamo che tutto quanto proceda in quel senso e logicamente ci sono delle cose da correggere ma penso siamo in grado di valutare non stravolgeremo sicuramente il gruppo che è veramente un gruppo con caratteristiche d'oro e per adesso abbiamo altri impegni tipo per esempio l'Under 15 che va a fare il concentramento per arrivare alle fasi nazionali poi siamo addirittura d'arrivo anche con il campionato Under 14 dove a fine mese avremo le Final Four e poi subito dopo speriamo la fase nazionale e Under 13 Final Four quindi diciamo c'è tutto il discorso giovanile da definire e per dirli lì a Ponti San Giovanni non ci si annoia mai perché veramente siamo praticamente immersi dall'iniziativa abbiamo fatto un torneo Under 14, Under 16 con delle squadre di Zagabria dove praticamente tramite una vecchia conoscenza Boris Sincovi siamo riusciti a riportare delle squadre stranieri in Italia solo che non c'è mai tempo molto tempo per mettersi seduti a meditare un attimo a pensare un attimo a organizzare le cose ancora non siamo mai messi a tavolino e vedremo un attimo insomma finiamo tutti i nostri impegni poi magari ci sarà occasione di vedersi inter titoli eativi Grazie a tutti